Si chiama Zara Al Shaikh, soffre di una tuta forma di leucemia e ha chiesto aiuto su Twitter il social network di l'uccellino creando migliaia di condivisioni, progetti di viso di ultrapianto di midollo osseo. Io ho un gruppo sanguigno molto raro per la mia origine etnica, arabo-britannica, per favore aiutatemi a trovare un datore compatibile, queste sarebbero le parole usate dalla bella Zara. Molti hanno promesso che fra il test di compagni di Pinta il papà di nome Lohua avrebbe detto tuttavia la BBC. Abbiamo pensato che non c'era niente da perdere a provare, ci abbiamo pubblicato il primo tweet, abbiamo visto che le notifiche sul mio cellulare sono arrivate a raffidare sul pianeta. Tutto questo ci fa sperare e fa sentire a Zara che ella non è solo per l'ascolto, una storia commovente, iscrivetevi, commentatevi, che aspettatevi da vedere questa ragazza, la nostra pagina attraverso un commento e un commento.